E fai tanti gol e anche i tre punti contro la Spalma anche col Chievo però poi col Milan la mano de Dios dopo con il Genoa e poi il 4 a 1 quanti ne fai? a dicembre sei primo però poi cali qualche volta fai il ladro, fai il derubato ma col Pordenone passi ai rigori poi con l'Udinese perdi il primato poi cosa fai? sconfitte e pareggi la corsa Champions con Caramo che balla e la Lazio che avanza ma poi perde punti e la Roma sorpassa per un posto in Champions denaro e prestigio senza passare per i playoff però se tu sbagli adesso sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori e fa un gran girone di Champions League giochi bene il derby ma dopo lo schiaffo pareggi quella sconfitta in coppa la contestazione ma scoprigli un derro, ora che fai? tu in estate fai un gran mercato carci via Montella e prendi Gattuso prendi gol da Brignol però ti rialzi adesso puoi tornare a sperare ora che fai? tu sei Playmaker la corsa Champions con Caramo che balla e la Lazio che avanza ma poi perde punti e la Roma sorpassa per un posto in Champions denaro e prestigio senza passare per i playoff però se tu sbagli adesso sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori ciao